Il comune di Castellabate Il sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli, dichiara in merito al potenziamento della rete di controllo che rappresenta sempre più un valido strumento in appoggio alle attività delle forze dell'ordine, insieme al comando della Polizia Municipale abbiamo individuato i punti strategici nei quali posizionare le apparecchiature che completeranno la rete di monitoraggio già presente nel territorio comunale. Lo scopo è principalmente quello di contrastare fenomeni di microcriminalità come ad esempio gli episodi segnalati recentemente in Piazza Passaro dove verranno appunto posizionate nuove videocamere.